ci piacciono le fiave racconta le altre sempre la madre di Beatrice Massimo di Aprilia è stato bellissimo sempre una maderita Carlo di Ostia ho visto, ho visto no ma ieri, oggi, domani, sempre nel vostro cuore Mario Nives, ve lo daste con Vicenza molto tutto a tutti, Mario ti ho visto anche a te ne prendo uno, ne leggo uno, per Daniele, non so che cos'è c'è il biglietto? ah, ah, ecco qua no, ho visto, ho visto Namari 30 anni di poesia, sempre solo Namari, Busterante, il viaggio continua, Namari, fresca e bella, bianca, sovvisto, Vicenza sempre Namari, bellissimo ordine e progresso questa, Douglas dove sei? dove sei? grande Douglas, e viva la vita cosa c'è qui dentro? del piombo, del piombo metteci in corrivo, non sono più abituato, sono un po' sei lei? già sono imbombito di mio abbiamo chiuso fuori la paura, siamo pronti a riassarvi, non potevamo mancare Gemona del Friuli, sempre presente Barbara, Emily, Deborah, Letizia e Bernardetta cioè, lui, io è un nome vero nome di Spirito Vagabondo a lei, a lei ci possiamo trasportare da da un vento di parole siete sempre nel nostro cuore sarà, ma noi no, sono gli amici di Parma penso Fals Club questa sera l'andaggio a Valle del Agno Valle del Agno, Vicenza Manolino Parma bene, scusa, devo leggere, allora, l'incudine il regalo che contiene l'incudine buon compleanno Daniele ti auguro cento di questi giorni PS mi piacerebbe tanto fare una lezione di batteria con te saluti Nikita Daniele, questo è per te ciao Nikita, grazie, ti ringrazio da parte sua perché non sono sottormentato dietro pensiero di rondaggio sottomunico al cielo nomade, grazie, grazie, grazie grazie ragazzi Pasquale Dallavianca, Sovizzo, Vicenza sempre nomadi forza reggia Davide Sammartino in Rio Reggio Emilia prigioniero da 850 concerti però però, però va bene l'ultimo, 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 l'ultimo sì, sì, sono Samuele clonate il signor Beppe Carletti è lì, è lì è quello che c'è Massimo Paola, con questo concerto fissiamo 40 anni di matrimonio io ci credo ancora sempre nomadi sempre nomadi da Paolo Anna va che 40 anni di matrimonio penso che ci credo ancora questa è la bandiera della Sardegna la piacete? sabato 13 giugno 2020 ci siamo sposati con il sottofondo musicale CD creato da me Scaletta qui ti porto a vivere se non a te un giorno insieme è memorabile grazie a Napoli ci avete unito anche in questo momento non vediamo l'ora di rivedervi ma stavolta siamo sposati e stasera presenti pioggia o non pioggia vi vogliamo bene Barbara ed Alessandro questo è amore anche per noi cari nomadi questo è un bel disegno cari nomadi sono donna Lottonaro non vedi che sono mezzo ciecato il vostro franzo è preferito che ho conosciuto a Folgaria l'anno scorso e ho deciso di fare il catate come i Uri Michael grazie la bandiera della Sardegna al nostro fan star nomadi Nuoro Spirito Lagabondo è la nostra tribute band Il Fiore Nero dedichiamo la bonima canzone Il Fiore Nero Marcella e Valentina Marcello volevo dire nomadi idee, musica e speranza in mezzo a tanto deserto sempre nomadi Roberto Valeri Roberto Camilla da Perugia però però Valentina e Marcello dalla Sardegna presenti o là non potevamo mancare a questa ripartenza tanto attesa sempre nomadi ad ogni costo grazie siccome siamo verso la fine prima di chiudere volevamo ringraziare la 220 che sarebbe l'agenzia che ha organizzato questo concerto qua direi che è stato organizzato bene voi siete stati molto dirigenti quindi avete contribuito alla realizzazione quindi cosa devo dire grande sicurezza non è che non si può di niente siete stati veramente meglio di così non poteva andare noi ci siamo divertiti spiegando che anche voi vi siete divertiti è stata veramente una bella serata un bel ritorno sul palco grazie a voi qua stasera e alle 220 al comune al sindaco qua davanti che ha accettato di mettersi in gioco per questo tipo concerto veramente il primo in Italia dove c'è si dice sold out dove c'è pieno che tanti hanno cominciato però non sono arrivati a tanta gente in questo modo qua grazie veramente tanta soddisfazione da parte nostra al sindaco e alle 220 che ha avuto il coraggio di Fabio grazie a tutti grazie a tutti grazie ai ragazzi che lavorano con noi a Luciano a Dario a Robby a Yuri a Lexos che nome e a Giulio grazie sono bandiera del Tibet Tibet libero ciao a tutti i ragazzi ciao grazie ancora signori signore signorine sempre più bello sempre più abbronzato e sempre più scalzo Sergio Reggioli Massimo Vecchi Yuri Cillori Cico Panzone Daniele Campani il signor Beppe Carletti a gusto d'olio e d'arte per grazie a tutti voi ciao io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò ma in bocchere sarà sembra azzurga non può essere da tuoi una notte di settembre mi svegliai il vento sulla pelle sul mio corpo il pianore 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 era di casa casa mia e quel bambino che giocava in un quartiere io paga molto che sei mio paga molto che non sono altro soldi in tasca di gioco il pianore e il pianore dal mio corpo sempre azzurra non può essere verità poi una notte di settembre andai il fuoco di un cammino non è caldo come il sole è l'unico è l'unico chissà dov'era casa mia è quel bambino che sottava in un cortile io ragamondo che sono io ragamondo che non sono io sono di in tasca l'unico ma su mi è rimasto io ragamondo ragamondo che sono io ragamondo sono di in tasca l'unico ma su mi è rimasto io ragamondo che sono io ragamondo che non sono animo ragamondo 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 ragazze ragazze ragamondo e sempre 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 grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.